La considero un'ipotesi del terzo tipo e su questo faccio veramente un appello fortissimo al Parlamento, ricordo così insomma a me stesso che l'ipotesi del terzo tipo è quella della irrealtà e cioè che si concluda la legislatura senza approvare la legge e questo è un impegno che investe il governo.